Per gli studenti dell'Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Luigi di Savoia di Chieti, il ritorno sui banchi non è stato dei migliori. L'edificio della scuola più grande della città, con 1.350 iscritti, è infatti oggetto di un importante intervento di risistemazione in via d'Aragona, che ha reso necessario il dislocamento degli studenti in tre sedi diverse. L'ex Masci di Via Vernia, il Desterlic a Chietiscalo e l'ex seminario regionale. Ed è proprio in quest'ultima sede che il ritorno sui banchi di scuola è stato più complicato, tra mancanza di arredi scolastici, lampadari pericolanti e calcinacci. Le segnalazioni degli studenti, sostenuti dalle famiglie con tanto di corredo fotografico che vi mostriamo, sono state raccolte dalla consigliera provinciale di Fratelli d'Italia, Carla Di Biase, che ieri con un comunicato aveva puntato il dito contro l'amministrazione provinciale capitanata da Francesco Menna, parlando di scuole nel caos e minacciando una denuncia per interruzione di pubblico servizio. In sciopero per protesta, gli studenti dell'ITIS Savoia hanno annunciato un corteo di dissenso insieme agli studenti del Masci, ma oggi la situazione sembra essere decisamente migliorata, come mostrano i video girati ieri nel corso del sopralluogo effettuato dalla consigliera provinciale con delega alle scuole di Chieti, Silvia Di Pasquale. Io mi sono recata ieri per verificare con mano lo stato delle classi. Attualmente io ho rilevato che comunque sono stati inseriti i banchi e sistemata la mobilia, secondo quanto ci è stato comunicato e disposto dalla dirigente scolastica. Di saggi non metto in dubbio ci siano stati, ma non sono riconducibili a questo ente che ha fatto tutto e di più, fino anche a fare i traslochi in 48 ore di notte, per cui forse è mancato un raccordo con la dirigente, forse i collaboratori scolastici non sono stati messi in condizioni di lavorare in tre sedi separate, questo non lo so. Tutto ciò che invece compete la provincia, se ci sono vetri da aggiustare, io sono stata lì, effettivamente ci sono due vetri rotti, stiamo già provvedendo, ricordo che quell'immobile nello specifico è un immobile che è in affitto alla provincia, pertanto ci sono anche dei passaggi autorizzativi da dover svolgere e stiamo facendo il tutto per far sì che i ragazzi vivano meno di saggi possibili. Certo è che questo si doveva un po' mettere in conto, avevamo già allertato le famiglie che non sarebbero state privi di disagi, la riapertura della scuola quest'anno, proprio perché stiamo per consegnare da qui a fra due anni una scuola con 11 milioni e mezzo di finanziamento, sicura, bella e tecnologicamente avanzata, abbiamo da tenere duro per due anni e cercare di essere tutti collaborativi. Ma la sede del seminario regionale è effettivamente sicura? Se per sicurezza si intende, se c'è un'agibilità e quindi i ragazzi sono autorizzati e sicuri a stare al loro interno, sì. Se per sicurezza si intende che ci sono dei lavori di manutenzione ordinaria da dover compiere, questo succede purtroppo in tutti gli edifici scolastici del territorio, mi sento di dire, italiano, non solo abruzzese. Quindi la manutenzione ordinaria in edifici obsoleti e comunque non sottoposti a dei restauri e delle ristrutturazioni di recente sono all'ordine del giorno.